Il blitz dei carabinieri del comando di Avellino all'alba di stamane a Prata e nel capoluogo, su disposizione della Procura della Repubblica. Perquisiti abitazioni e sequestrati una decina di telefonini a ragazze conoscenti di Domenico Manzo, il 69enne di Prata Principato Ultra, allontanandosi da casa il 9 gennaio scorso. L'ispressione dei militari mirata ad acquisire informazioni utili al ritrovamento dell'ex muratore e definire le origini e la dinamica di una scomparsa, che con il passare del tempo, sono trascosti sei mesi dal giorno dell'allontanamento, ha acquisito i connotati del giallo di una vicenda che potrebbe riservare un macabro epilogo. Alcune settimane fa i carabinieri della stazione di Patola Serra avevano sentito una buona parte dei giovani che il 9 gennaio erano presenti alla festa di compleanno di Romina, la figlia di Domenico Manzo. La sera della scomparsa dell'uomo che dopo un diverbio si sarebbe allontanato da casa dicendo che andava a fumarsi una sigaretta. Lanciato l'allarme, il 69enne era stato intercettato dalle telecamere di videosorveglianza di un ristorante mentre si incamminava lungo la strada della stazione. Poi, il buio più totale. A vuoto anche le ricerche effettuate dai nuclei speciali, dai vigili del fuoco, che avevano battuto in lungo e largo la zona, setacciando anche i cunicoli e le catacombe dell'antica Basilica. Dopo aver registrato sul caso alcune testimonianze ritenute attendibili ed effettuato dei controlli incrociati, la procura ha deciso di compiere un passo avanti. Le indagini quindi si avvarranno ora, anche del contributo dei periti informatici, che nonostante il lungo periodo trascorso cercheranno di recuperare attraverso la memoria dei telefonini indizi capaci di assestare una svolta all'inchiesta. Anche di recente le sorelle e i figli di Domenico Manzu, assistiti dall'avvocato Federica Renna, da tempo si battono alla ricerca della verità, invitando a più riprese chi sa parlare e gli inquirenti a dare impulso alle indagini per stringere il cerchio sugli eventuali responsabili della scomparsa. Mimì è stato tratto in inganno e ucciso, restituitici almeno il suo corpo, questo drammatico appello dei cari delle 69enne, che nonostante tutto hanno cercato sempre di tenere alta l'attenzione su una storia avvelenata da molte ombre e sospetti. Scenari moventi inquietanti, rimbalzati da Prata all'Interlanda vellinese, mete del blitz di stamane. I familiari dell'ex muratore sperano ora che il cambio di marcia, impresso dalla procura, possa finalmente svelare la fine di Mimì e fare giustizia sulla sua scomparsa.